Ci troviamo a Chiavazza e parliamo questa mattina con un commerciante che insieme ad altri lamenta un disservizio, è stato predisposto un divieto di sosta su tutta la via e questo ovviamente impedisce ai potenziali clienti di parcheggiare così? Sì certo, prima parcheggiavano lungo la via e soprattutto i clienti, poi anche i genitori della scuola che passava qui a fianco e quindi adesso ci troviamo con questo disservizio che ci tocca veramente tra noi e anche quello della Virtus oltre ai parrocchieri che sono qui a fianco. Allora praticamente tutta la via è coperta da divieto di sosta, adesso voi avete già contattato anche il comune, sono passati i vigili, hanno detto che forse qualche cosa faranno? Qualcosa si è mosso, probabilmente lo toglieranno e lasceranno soltanto gli ultimi 100 metri per evitare perché il loro problema era l'incrocio in fondo dove sono stati causati diversi incidenti. Ok, allora noi sollecitiamo ancora una volta questo intervento, urge ovviamente perché la situazione del commercio è già abbastanza compromessa così. Ah sì, Chiavazza è un piccolo quartiere, un piccolo rione di Biella come sanno tutti, però è famoso per la fagiolata e per il carnevale e sta morendo, pian pianino si sta spopolando, quindi noi cerchiamo di tenere viva la città con i nostri mezzi. Allora noi intanto vigileremo sul fatto che il comune intervenga materialmente il prima possibile perché ogni giorno ovviamente è una perdita, quindi davvero in bocca al lupo buon lavoro. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti.